Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Oggi il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sono tanti gli eventi in programma in Sicilia. Partiamo ad esempio da Taormina, dalla manifestazione che si è svolta all'Istituto Ugo Foscolo. Ce ne parla Mauro Romano. La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Taormina, Carla Santoro, oggi stop alla violenza alle donne anche nell'Istituto Foscolo di Taormina Centro. Una manifestazione alla quale partecipo a numerose classi. Ma quali sono, professoressa? Diciamo che l'azione educativa ha coinvolto un po' tutte le classi di risoluzione scolastica. Però la manifestazione di oggi invece coinvolge soltanto le classi terze della scuola secondaria di primo grado. Sia di Taormina e ovviamente anche della sezione staccata di Trappitello. Perché è sicuramente oggi una giornata di denuncia, una giornata in cui tutti noi ci rendiamo conto di quanto il fenomeno sia diventato ingestibile e delle proporzioni che ha assunto, ma è anche una giornata di impegno. Impegno di tutti noi, impegno della scuola che comunque continua a far sì che vengano decostruiti gli stereotipi di genere, oltre agli stereotipi di qualsiasi tipo, in cui vengono messe in atto strategie per gestire in maniera positiva i conflitti e l'affettività dei ragazzini, ma è anche un impegno da parte delle famiglie che insieme alla scuola devono costruire. Perché quello che viene considerato normale di solito passa attraverso le famiglie. E' da lì che il ragazzino ha la percezione di quello che è giusto e di quello che è sbagliato. Quindi le famiglie che aiutano e collaborano con la scuola per far sì che le disparità vengano eliminate tutte. La Taormina a Catania, dove negli anni si ripete un appuntamento importante proprio in occasione di questa giornata, ovvero un omaggio floreale a Sant'Agata. Sentiamo Lucio Di Mauro. Le preghiere per tutte le donne vittime di violenza, la speranza per un mondo rinnovato nello spirito. A Sant'Agata oggi e sempre si fa riferimento con il cuore e con la mente. La Presidente Merita per la festa di Sant'Agata, l'imprenditrice Mariella Gennarino, ha organizzato e riunito ancora una volta la comunità catanese intorno alla martire protettrice e al suo esempio, rendendole omaggio floreale per mano di una vigilessa del Corpo dei Vigili del Fuoco per l'iniziativa sociale. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, nella piazzetta antistanti, il santuario di Sant'Agata al carcere a Catania, un mazzo di fiori è stato deposto attraverso la grata del carcere, illuminata dalla luce rossa dei faretti, secondo un rituale di devozione, ha affermato l'imprenditrice, che rinnova ogni volta quel sentimento che ci lega alla nostra Santa Agata e una volta di più stimola una riflessione su un fenomeno sociale che riguarda tutti noi e sulle cui radici profonde dobbiamo interrogarci. Dove nasce tanta ferocia? Dove la nostra società ha fallito? Che tipo di educazione stiamo trasmettendo ai nostri figli? Si chiede la imprenditrice. Ringraziando di cuore quanti, anche per questa edizione, hanno sostenuto l'iniziativa e presenziato alla cerimonia. Presente anche Don Pasquale Muzzone, rettore del santuario Sant'Agata al carcere, autorità civili, militari e religiose, l'assessore alle pari opportunità Viviana Lombardo, le numerose associazioni, il comitato per la festa di Sant'Agata. Agata riunisce e unisce e ci stringe intorno alla memoria di chi non c'è più e a quante in modo spesso silente subiscono anche dentro le mura di casa, continua la generino. Il maestro Fabio Raciti, sempre vicino a cause benefiche e sociali, ha creato l'atmosfera intonando musiche di Mozart, Susa, Moricone e inni popolari di Sant'Agata, eseguite dall'ensemble d'arche della classe di violino e musica da camera del liceo musicale statale Turrisi Colonna. Presente anche Rosario Scandurra, presidente della fondazione Sant'Agata, che ha sottolineato l'importanza di fare rumore, quel rumore che sveglia le coscienze tutti insieme. Un altro evento importante invece nella Trapanese, in questo caso organizzato dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. La Cooperativa Sociale Badia Grande ha promosso un'importante iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nei centri di accoglienza di Salemi e Vita. Un faro rosso per Marisa e tutte le vittime del femminicidio è il progetto del SAI Marsala, coordinato da Lorena Tortorici, che ha coinvolto in un percorso di consapevolezza sui diritti umani e il rispetto di genere i 44 beneficiari tra i 19 e i 25 anni di origine tunisina, guineana, gambiana e bengalese. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il successo di un faro rosso per Marisa e tutte le vittime del femminicidio è stato possibile grazie al lavoro di squadra dell'equip multidisciplinare della Cooperativa Sociale Badia Grande. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di integrazione sociale della cooperativa che considera l'educazione al rispetto e la sensibilizzazione culturale strumenti fondamentali per costruire una società più equa e sicura. Il 25 di novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e come ogni anno nei centri di Badia abbiamo deciso di ricordare e raccontare che cosa significa nel territorio tutto questo soprattutto tra Salemi e Vita perché anche noi purtroppo siamo stati colpiti recentemente da un fatto di femminicidio ed è stato l'omicidio di Marisa Leo e insieme ai ragazzi e alle ragazze dei centri abbiamo discusso di un fenomeno che riguarda tutte e tutti e che va oltre le nazionalità e le religioni e abbiamo pensato di non solo raccontare dal punto di vista fotografico e video tutto questo ma di dare un segnale, un contributo anche noi al territorio di Vita e di Salemi così come fanno solitamente le istituzioni illuminando dal 23 al 25 i centri di Vita e di Salemi con un faro rosso per dire anche noi tutte e tutti insieme no alla violenza sulle donne. La Proloco Vitesse è presente per ricordare questo giorno e per ricordare le vittime uccise per femminicidio e quindi insieme a Badia Grande abbiamo voluto essere presenti e condividere questo momento con gli ospiti di Badia Grande perché è importante essere sul territorio e essere consapevoli di quello che il territorio offre. E sempre a proposito della giornata internazionale sull'eliminazione per la violenza contro le donne una campagna mediatica e di responsabilizzazione da parte dei carabinieri sentiamo i messaggi dei militari dell'arma. Ogni giorno tantissimi casi di violenza non vengono denunciati anche quelli più gravi che potrebbero avere conseguenze tragiche. Uscire dal ciclo della violenza si può sei tu a scegliere. Non temere di fare il primo passo per mettere fine alla sofferenza parlane con qualcuno di cui ti scimi è la cosa più importante da fare. Rivolgiti ai carabinieri con fiducia nelle nostre caserme troverai personale qualificato che saprà ascoltarti, comprenderti e farti sentire al sicuro. Oggi la legge prevede nuove possibilità di accoglienze e di supporto contributi psicologici, legali, economici e lavorativi per le vittime di violenza e per i familiari. Gli strumenti per iniziare una nuova vita libera da coercizioni ci sono. L'importante è sapere come utilizzarli. Noi possiamo aiutarti. Ricorda, chi ti ama veramente ti fa sentire libera. Parliamo adesso dell'influenza. Sono oltre 400.000 le persone in Italia colpite nell'ultima settimana di monitoraggio. Si stima possano già essere 2 milioni circa i casi nel nostro paese. Nell'ultima settimana monitorata i casi stimati di sindrome similinfluenzale rapportati all'intera popolazione italiana sono stati circa 418.000 per un totale di circa 1.792.000 casi a partire dall'inizio del monitoraggio che potrebbero avere già raggiunto in questi giorni i 2 milioni di casi. Lo afferma l'ultimo bollettino della sorveglianza Respi Birnet secondo cui l'incidenza delle sindrome similinfluenzali è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,1 casi per mille assistiti e minore di quello osservato nella scorsa stagione. maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età con una incidenza pari a 15,9 casi per mille assistiti in metà delle regioni italiane il livello di incidenza è sopra la soglia basale durante la prima settimana di sorveglianza virologica per la stagione 2024-2025 si registra una limitata circolazione dei virus influenzali su 1.038 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete Respi Birnet 17, l'1,6% sono risultati positivi al virus influenzale 14 di tipo A e 3 di tipo B Parliamo adesso di ambiente l'Unione Europea ha infatti selezionato tre progetti siciliani per la tutela di mari e oceani Sono tre e tutti siciliani i progetti che sono stati selezionati dall'Unione Europea nell'ambito della missione Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque per ricevere assistenza da parte di esperti internazionali per la loro realizzazione Una delle tre proposte fa capo alla regione siciliana ed è stata presentata dal Dipartimento Ambiente guidato da Patrizia Valenti Si intitola decarbonizzazione del trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole minori e mira a ridurre la produzione di carbonio nei collegamenti e di conseguenza l'inquinamento dei nostri mari L'obiettivo del progetto infatti è condurre analisi di fattibilità tecnico-economica per valutare la fattibilità di istituire servizi di trasporto marittimo a emissioni zero per la regione siciliana al servizio dei collegamenti con le 11 isole minori Gli altri due progetti selezionati sono del comune di Marsala indagini batimetriche e correntometriche e realizzazione di interventi di protezione e ripascimenti del litorale dell'area di Colmata a Torre Sibiliana e del comune di Palermo Mare Nostrum su 20 progetti finanziati in tutta Europa ha dichiarato l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Giussi Savarino la Sicilia si è aggiudicata a tutti e tre i posti che ogni Stato membro aveva a disposizione questo è il segno di quanto seriamente la nostra terra e la nostra regione in particolare ha a cuore la salvaguardia dell'ambiente un impegno costante che portiamo avanti con lo sguardo rivolto al futuro l'iniziativa dell'Unione Europea è stata messa a punto per conseguire entro il 2030 gli obiettivi di protezione e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità di inquinamento zero decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con lo scopo di arrivare alla neutralità climatica negli oceani, nei mari e nelle acque europee Se la salute mentale di un individuo è precaria le sue ricerche online, le ricerche web avranno contenuti negativi e saranno quindi ancora più dannose questo ci dice un recente studio Se la salute mentale di un individuo è precaria le sue ricerche online hanno contenuti negativi il che ne aggrava ulteriormente il quadro psichico lo rivela uno studio della University College di Londra secondo cui la relazione tra salute mentale e navigazione sul web è causale e bidirezionale i ricercatori hanno anche sviluppato uno strumento che aggiunge dei tag alle pagine web simili alle etichette nutrizionali sugli alimenti Queste etichette sottolineano l'impatto emotivo del contenuto della pagina insieme alla sua praticità e informatività Oltre mille partecipanti allo studio hanno risposto a domande sulla loro salute mentale e condiviso la loro cronologia di navigazione web con i ricercatori che hanno analizzato il tono emotivo delle pagine visitate è emerso che i partecipanti con stati d'animo peggiori e sintomi di salute mentale più gravi erano inclini a navigare in pagine con contenuti più negativi e dopo la navigazione si sentivano ulteriormente peggiorati In uno studio aggiuntivo i ricercatori hanno manipolato i siti web visitati esponendo alcuni partecipanti a contenuti negativi e altri a contenuti neutri Coloro che avevano visitato siti negativi hanno riportato un peggioramento dell'umore dimostrando che sono proprio i contenuti negativi a causare il peggioramento Inoltre quando questi partecipanti i partecipanti hanno poi navigato liberamente quelli che avevano visto contenuti negativi hanno scelto altri contenuti negativi evidenziando così una relazione bidirezionale i contenuti negativi influenzano l'umore e un umore peggiore spinge a consumare più contenuti negativi usando infine le etichette i partecipanti hanno preferito navigare su siti etichettati positivamente e successivamente hanno riportato miglioramenti d'umore Per il momento è tutto, ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sovrapposti